grande partecipazione al convegno un ricordo dell'onorevole colombo l'ultimo dei costituenti che si è tenuto a lavello presso il san barbato resort evento voluto dal presidente michele abbattista e il consiglio di amministrazione della bcc gaudiano di lavello banca del nord basilicata per presentare una prestigiosa pubblicazione emilio colombo l'ultimo costituente curata dagli storici professor donato verrastro dell'università degli studi della basilicata e dalla storica professoressa elena vigilante con i due curatori sono intervenuti come relatori nellino la morte e peppino molinari già parlamentari di c che hanno conosciuto da vicino il presidente colombo e con lui collaborato nel partito nella regione e nel paese nel corso della migliore stagione democristiana poi bruscamente interrotta nel 1994 la morte molinari testimonianze di vita vissuta per la cronaca da registrare la fattiva presenza dell'assessora regionale donatella merra hanno collaborato all'organizzazione donato masiello e pasquale tucciariello del centro studio leone tredicesimo sede di lavello oltre a coordinare i lavori e moderare il dibattito gli autori del rastro vigilante nei loro interventi hanno raccontato la lunga testimonianza fatta qualche anno prima che colombo morisse gli eventi della storia politica e istituzionale e le vicende di vita privata arricchita da aneddoti poco noti attorno a un nome colombo democrazia cristiana si sono riunite oltre 200 persone provenienti dalla basilicata puglia e campania